Dopo la domenica di maltempo appena trascorsa è ora necessario fare una conta dei danni. Anche l'area sud di Salerno ha dovuto fare i conti con raffiche di vento e forti temporali che hanno provocato non pochi danni sin dalla mattinata di ieri. Strade allagate, alberi caduti, frane e smottamenti. Una lunga serie di problemi che hanno impegnato i diversi gruppi di protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri chiamati in più occasioni ad intervenire a tutela delle comunità locali. A Sala Consilina, domenica di paura, è iniziata con un albero che si è abbattuto su tre auto di cui una danneggiata in maniera grave. L'episodio si è verificato nel piazzale antistante alla chiesa della Santissima Trinità intorno alle ore 9 mentre era in corso la Santa Messa Domenicale con l'albero che nella caduta ha travolto anche un paletto della luce. Fortunatamente solo tanto spavento. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco il cui intervento è stato necessario per liberare le auto e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per le verifiche del caso oltre a Don Gabriele Petrocelli. Pericolo per la viabilità con diverse strade allagate. La situazione peggiore si è verificata sulla strada provinciale Teggiano-Polla che è stata chiusa al traffico vista la pericolosità dell'arteria. Di difficile percorrenza anche le strade secondarie con punti assolutamente impraticabili per la grande quantità di acqua che aveva invaso totalmente la carreggiata creando un effetto ottico che lasciava immaginare un lago immenso. Non è andata bene neanche a San Pietro Altanagro con allagamenti lungo le arterie principali e danni al campanile della chiesa. Le forti raffiche di vento infatti hanno danneggiato la parte superiore del campanile della chiesa madre con un pezzo di metallo che si è staccato. Paura e preoccupazione per un eventuale distacco totale del pezzo. Impossibile purtroppo intervenire nella giornata di ieri dato che il vento e le in sé piogge rendevano pericoloso qualsiasi operazione di messa in sicurezza. Frane smottamenti a Salvitelle dove il sindaco Maria Antonietta Scelza ha allertato gli enti competenti per la messa in sicurezza del tratto di strada che collega Salvitelle e Caggiano sulla SP 341. L'intervento dei tecnici della provincia ha consentito di mettere in sicurezza la zona che vista l'intensità della pioggia era a rischio caduta di detriti e massi. Stato di allerta per il fiume Tanagro che sin dalla mattinata di ieri aveva fatto già registrare il superamento del livello di sicurezza delle acque del fiume che per fortuna defluivano senza ostacoli di sorta evitando il peggio. Necessaria però la continua visione della situazione con responsabili della sicurezza e volontari che sono rimasti nei pressi delle zone a rischio per tutto il giorno. Fiume calore in piena a piaggine dove le incessanti piogge hanno provocato lievi disagi e una forte intensità anche della cascata sotto il ponte.